Ciao a tutti, il Dalai Lama spiega come essere felici con il sesto senso. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco ed iscriviti al mio nuovo canale, Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora, secondo la tradizione buddista esistono sei sensi, i cinque sensi canonici, diciamo così, che sono visto, udito, trattato al fatto e gusto e poi c'è un sesto senso che è il senso della coscienza della mente, la coscienza mentale, la quiete della mente. E la felicità, secondo il buddismo, il kibetano e secondo il Dalai Lama, quindi, la felicità è legata a questo sesto senso, è la quiete della mente, non ai cinque organi di senso e quindi alla percezione dei beni materiali, ad esempio. La vera felicità, diciamo, quindi è collegata alla coscienza mentale. L'autentica felicità non è causata, diciamo così, dalle sensazioni che riceviamo tramite gli organi di percezione, ma dalle emozioni, diciamo così, di tipo mentale. Nel senso della mente, vi sono impresse tutte quelle sensazioni che provengono dai nostri stati più profondi. E quindi bisogna sganciarsi dai cinque sensi e andare al livello mentale per mantenere una quiete della mente. Secondo il Dalai Lama, nel mondo occidentale, l'errore che si fa è che fin da piccoli, diciamo così, gli esseri umani sono programmati ad un'azione, diciamo, finalizzata all'acquisizione di beni materiali. I beni materiali e i piaceri di senso. Infatti i beni materiali e la sensorialità ci possono regalare solo dei piaceri sensoriali. E quindi la sensazione di felicità, invece, è qualcosa d'altro. È la capacità di utilizzare il senso della mente per acquietarlo, per eliminare, diciamo, la felicità effimera delle situazioni sensoriali, e entrare in uno stato di felicità assoluta che riguarda, diciamo, invece proprio l'utilizzo dell'acquietare la mente. Liberandosi proprio dalla schiavitù, diciamo, liberandosi dalla schiavitù dei piaceri sensoriali, quindi liberandosi dalla schiavitù dell'attaccamento. Quindi scendere a un livello più profondo attraverso la meditazione al livello della nostra mente e acquietarla, cioè accettare il flusso degli eventi, rendersi conto, a livello profondo, a livello mentale, di essere parte del tutto, di essere in continua perenne trasformazione, di essere in interdipendenza con il tutto e di essere, diciamo, facenti parte di tutto ciò quello che ci circonda. Quindi in una continua vita, morte e rinascita, vita, morte e rinascita. Abbandonarsi a questo tutto, a questo flusso, a livello profondo, quindi a livello mentale, ci permette di percepire uno stato interiore di felicità. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramaschi, iscriviti al canale ed iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!